Ciao a tutti e bentornati su Fortnite! Oggi vediamo come seccare il terreno del mostro del dojo demoniaco, eccolo qua. Allora, innanzitutto dovete sbaragli, sembra un po' banale, ma è così. Poi una volta che siete sentati in possesso di un petiruoba, curatevi perché poi vi serviranno tutte le energie possibili. Ecco. Guardate come scarto. Una volta messo KO iniziano i problemi, perché l'ambaradonco si nervosisce e c'è un metodo specifico per seccarlo, che non è da tutti. Ok, ragazzo, qua è fortissimo. Innanzitutto sfasciate questa mascherina qua. E poi, volete mirare agli occhi. È facile di dirsi che farsi, vedete? Perché vi fa male dell'anima proprio. Cattività. Quindi vi recuperate. E cercate appunto dove riuscire a beccarlo. vedete? Ecco. Perché lui vi becca in mezzo agli occhi, con qualche qualche cosa. Una volta che si tratta agli occhi, si sfascerà l'occhio andato, questo grande passavanti rispetto a passare. Anche l'altro occhio è andato. Adesso sparate alla tipa, senza pietà. Ah, si è riappeso. Quindi ricominciate con gli occhi. un po' di munizioni, se no ce la farò. Stava sparando a qualcun'altro prima. Adesso, via l'altro occhio. Bisogna anche la tempesta romperci le scatole. E non farci mancare niente, eh. E la tipa è scesa. È vulnerabile. E la finiamo. Dove sei? No, ancora. dovete essere veloci, se no. Finisce male. C'è anche senza munizioni, veramente. Non ci credo. Non riuscito mai a farlo sto tutorial in santa faccia. Sì, facciamo così. Adesso andiamo a risarci. Prima trinchiamolo. Questo che sta già sparando da me in fondo è assurdo. Si muove a caricare, ok. Questo migliorino qua lo riuscirà a colpire negli occhi. e anche lui riuscirà a colpire negli occhi. E anche lui riuscirà a colpire bene. Ah, il gatto è veramente insopportabile quando fa così. Ah, mi casco anche giù, non va bene. Ehi, si è addormentato? Ehi, la fregatura, se lo fate addormentare, si sveglia, mi fa un mazzo così. Questo è il boss più complicato che ho mai notato, eh. Ok, si migliora di tutto. Ci mette trami. Occhio uno. Guarda quanto male, ma affasta. Vedete, vinchiamo perché la tipa è quasi morta. Vai, 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 andata. Non ci credevo, ma ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, con questo semplice tutorial riuscirete a sconfiggere il mostro. Non è facile, eh. Quindi vi prendete il medaglione. E la sua super armaschera. E la sua super arma. Bella lì, mi raccomando, lasciate like. Ciao, ciao.